BASHO! BASHO! Amor, prima si spegne la pianna, vai! Vai, vai, prima si spegne la pianna! BASHO! 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 Compleanno d'Argentina! Anni 69, ristorante Leonde, è il momento della torta. Sì, stringetemi. Questa è la torta. Stanno facendo le foto. La festeggiata, tutta la famiglia. Angela fa le foto. E' andata via. Tagliamo la torta. Assaggiamo la torta d'argentina. Ecco tutta la tavolata. Ci sediamo e mangiamo la torta. I miei amici, insieme, hanno fatto una laudacena. Rossano è pensieroso. No, non è pensieroso. E' addoggi.